Con il nuovo metodo ARERA continuano gli aumenti della Tari, ma Montevarchi resta ben al di sotto della media provinciale grazie a 250.000 euro recuperati con la lotta all'evasione. Così si è espressa l'assessore al bilancio di Montevarchi Cristina Bucciarelli, sottolineando come l'amministrazione comunale Chiesai Martini si è sempre stata attenta ai costi dei rifiuti dal suo insediamento. È stata portata avanti una politica di riorganizzazione più funzionale del servizio, una modalità di raccolta differenziata più adatta ed economica ad un territorio di 25.000 abitanti ed una lotta continua agli abbandoni che incidono sulle tasche della collettività, ha aggiunto l'assessore, rivendicando inoltre come nel 2022 Montevarchi si sia schierata con altri 10 comuni della provincia contro l'aumento delle tariffe dovuto all'introduzione del nuovo metodo di calcolo ARERA deciso dal governo Gentiloni, presentando anche un ricorso seppur poi respinto al TAR. Bucciarelli ha inoltre spiegato che l'amministrazione comunale Montevarchina continua a muoversi in un contesto preoccupante di rincari generalizzati che diventano sempre più difficili da arginare. A suo dire rappresentazione del falimento del modello voluto dalla regione di un gestore unico per 104 comuni che non porta beneficio alcuno per il cittadino. L'ultimo aumento delle tariffe è stato dovuto all'impennata dei costi fissi degli impianti di smaltimento dei rifiuti sui quali il comune non ha alcun potere di intervento e che Montevarchi è riuscito ad arginare solo grazie ad una politica attenta di accertamento dell'elusione dell'evasione della tassa sui rifiuti, rivendicato come obiettivo costante e strategico dell'attuale amministrazione. Bucciarelli ha infine chiosato ribadendo che l'amministrazione Montevarchina continuerà a perseguire la propria attività di controllo della qualità del servizio rifiuti unitamente a quella di accertamento delle evasioni e delle morosità, con l'obiettivo di raggiungere l'agognata equità fiscale, augurandosi che in un futuro non troppo remoto i comuni possano tornare ad avere un controllo diretto in termini di efficienza, costo, raccolta, differenziata, tariffe, avvantaggio dei cittadini e dell'ambiente tutto.